Eccoci qua, via prova, questa qui è la prova di un piatto nuovo, abbiamo dei paccheri di Pietro Massi, farciti di ricotta e spinaci, con l'aiuto del mio avvice, Michael Bazzini, pensiamo di avere le carte in regola, bene, ecco qua, a questo punto andiamo ad aggiungere una tartare di storione bianco, bravo, una tartare di storione bianco, niente sale in questo caso perché dopo avremo anche la risposta a tutto ciò, un po' di tartare di bufala, anche qui naturalmente tutta scondita, ok, poi abbiamo preparato, un'emulsione al nero di sepia che andrà a dare un sapore decisivo al piatto, ma nel vero senso della parola, quindi guardate questi colori signori straordinari, naturalmente non può mancare tocco artistico, questa insomma è la mia, insomma da artista in qualche modo devo intervenire, e poi un prodotto nuovo nella nostra cucina, abbiamo polvere d'oro 23 carati che andrà a dare contrasto proprio di colore a questo meraviglioso piatto, infine, infine, un tocco di laudemio fresco baldi made in Toscana, ma giusto un goccio, non esageriamo perché serve soltanto per lucidare, non di più, solo lucidare, ma da monsieur, detto in francese, dal mio vice, Michael Bazzini, Castellucchio, a voi in studio.